Nel rispetto democratico si tratta di un risultato negativo e deludente. Con più del 18% dei consensi, Nicola Dascanio è arrivato terzo nella sfida per le amministrative, dopo il sindaco rieletto Nicola Travaglini e il segretario del circolo PD Nicola Palombo. Entrato in consiglio insieme all'avvocato Valentina Bozzelli, l'ex presidente della provincia ha parlato di un trasversalismo, di un'improvvisazione deleteria mai visti nella storia di Montenero di Bisaccia. Dascanio ha analizzato così l'esito delle urne e l'accordo del sindaco con i dipietristi senza risparmiare forti critiche al governatore Paolo Frattura. Questa ingerenza da parte del presidente della regione di un politico come Di Pietro che ormai è sul declino da tempo e che non si è speso mai più di quanto si si è speso adesso per la sua comunità nell'arco della sua vicenda storica e anche nel crepuscolo di un tramonto che è culturale io vedo anche quella figura un po' problematica di patriciello e quindi di una sanità che viene privatizzata. Noi non abbiamo ospedali ma il nostro poliambulatorio è stato praticamente chiuso. Duro il giudizio del neoconsigliere che ha annunciato un'opposizione determinata ed è pronto a continuare il lavoro svolto nel periodo preelettorale insieme alla consigliera Bozzelli. Io credo che oggi questi signori abbiano coltivato l'idea che si voti per gli interessi, che una tornata elettorale sia l'occasione per stabilire piattaforme affaristiche che riguardano i vari momenti della vita pubblica e della vita cittadina.